Le piogge intense delle ultime ore hanno fatto preoccupare chi nei mesi scorsi ha subito ingenti danni a causa del maltempo. Hanno infatti creato problemi nelle Marche, come nell'Ascolano, dove la protezione civile ha controllato il livello del torrente Menocchia che ha superato i due metri. A Fano invece i tecnici della provincia di Pesero e Urbino, insieme ai carabinieri e ai volontari della protezione civile comunale di Monbaroccio, hanno monitorato per diverse ore il torrente Arzilla, esondato in più ponti. Oltre ad allagare i campi circostanti, a farne le spese, come sempre è stato il ristorante Ciavarini. Acqua e fango sono entrati per l'ennesima volta all'interno del locale. A causa di una frana, la strada provinciale 26, che collega Monbaroccio a Cartoceto, è stata chiusa al traffico. Da queste immagini si può notare come parte dell'asfalto sia stato trascinato via. I vigili del fuoco di Fano invece sono intervenuti nella strada sotto le selve in zona Centinarola per abbattere una pianta pericolante finita sopra i cavi della Telecom. Intanto la provincia di Pesero e Urbino ha stanziato 500 mila euro per riparare alcuni danni alla viabilità. Le cattive condizioni climatiche hanno causato numerose situazioni di criticità sulle strade provinciali, danneggiate da frane smottamenti, buche causate dalla pioggia e rami e piante sulle carreggiate per le forti raffiche di vento. I comuni interessati che riceveranno i fondi sono quelli di Petriano, Tavuglia, Vallefoglia, Tavoleto, Barchi, Sant'Ippolito e Pergola. In maltempo delle scorse settimane aveva anche spezzato la lancetta di minuti dell'orologio del campanile in piazza 20 Settembre. L'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini ha comunicato che gli uffici tecnici del comune stanno prevedendo alla riparazione del guasto. Qui parliamo di un dato comunque estetico che dà la bellezza o la cura, il decoro della città. In questo caso sono stati stanziati 18 mila euro perché occorre noleggiare un mezzo, una gru, un cestello, andare fino a quel punto. È una cosa che sembra banale ma comunque va fatta nelle condizioni di sicurezza e tecniche necessarie. Quindi prossimamente faremo l'intervento.